Siamo pronti per osservare da vicino la cellula animale. Per farlo diventeremo elementi piccoli sulla pelle umana ad arrivare a vedere tutte le strutture cellulari. Esplorando l'interno della cellula, è possibile notare che si è formato da cellule e pallioli tutti uguali, tra loro spazio e i moduli di fulme. Queste formano il tessuto, che viene definito tessuto nucleare. Come vediamo da questo modello, la cellula è delimitata da una membrana citoplasmatica, costituita da citoplasma con gli organelli e DNA. Essa è caratterizzata dalla presenza di componenti interni delimitata da una membrana e definiti organelli. La cellula animale presenta i mitocondri, che sono le centrali energetiche della cellula. Nei pressi del nucleo si trova il reticolo endocrasmatico che contiene i glucosomi o strutture di proteine. Il nucleo è avvolto da una doppia membrana che conserva il DNA. Il DNA, poco prima della revisione cellulare, si addensa in glucosomi. Il percorso si conclude con l'analisi della revisione dei glucosomi. Un uno di questi è formato da una molecola di DNA. Infine, esse si avvolge attorno agli stori, formando così una lunga serie di glucosomi. Grazie. 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 Grazie.